ciao a tutti ragazzi benvenuti in un nuovo video eccolo qui abbiamo shoppato lui terminator oggi andiamo a provare in campo facciamo una singolo e vediamo come si comporta un po' nell'ambiente e nella mappa di forne let's go dai un po' fornato dai non malago come vedete il dorso decorativo non l'ho applicato perché come dicevo nel video dello shop mi sembra il backpack un po' troppo un po' troppo ingombrante un po' troppo grande a me non faccio i backpack particolarmente ingombranti perfetto l'applicato avete mai visto a termine per mangiare il cocco di tanti passi il rumore il rumore metallico dei passi molto bello molto carino molto bello mi piace il rumore proprio nel dettaglio del metallo ma è fatto molto bene detto io non vedevo ora che uscisse questa questa skin perché volevo appunto prenderla un po' per nostalgia visto che il film è nei miei anni non ho capito un po' per cosa Boh, vabbè ragazzi, si vede che si pensava al fenomeno, si pensava di potermi un picco narco, o di potermi lì, questa tra l'altro secondo me era quella che c'era prima nella log, nel diso, GG per lei o per noi, perfetto, bellissima ragazzi, abbiamo visto il Terminator in azione e un po' nell'ambiente della mappa, una schienica a me particolarmente piace, piace particolarmente anche il rumore, l'avete sentito, il rumore metallico dei passi, insomma è stato ricreato abbastanza bene, anche nei dettagli, sono contento di un acquisto, se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al canale, per ora è tutto, dal vostro soldiero, ciao Grazie a tutti Grazie a tutti